Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla strada statale 18 Tirena Inferiore fino al 31 luglio nella fascia oraria 7, 18 e 30 per lavori attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra le località Eboli e Agropoli. Sulla strada statale 145 Sorrentina fino al 1 agosto nella fascia oraria 226 per lavori attivo il senso unico alternato in località Seiano. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuora. Grazie a tutti.